A Casale di Montefalco, tra i filari del Sagrantino, sorge la cantina Le Cimate, un'azienda moderna in una terra antica. L'arte del vino è un talento unico, capace di trasformare in una goccia la vocazione di una terra. La famiglia Bartoloni ha raccolto la sapienza di tre generazioni per dare vita ad un connubio di tradizione, modernità e innovazione tecnologica. Visitare la cantina e assaporare i suoi prodotti sarà ogni giorno un'esperienza piacevolissima, grazie anche all'ampia ed accogliente sala degustazioni. La Cantina Le Cimate, percezioni sublimi!